Mai come negli ultimi tre giorni sono stati registrati dati così alti di vaccini somministrati all'Hub vaccinale della Fiera di Messina. Lo fa sapere l'ASP con l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Covid a Messina. Dal 30 novembre al 2 dicembre sono state somministrate infatti 2.572 dosi totali delle quali 268 prime dosi e 348 antinfluenzali stagionali. Numeri significativi in soli tre giorni che hanno rimesso in moto la macchina vaccinale in una provincia che ad oggi continua a segnare alti numeri di nuovi contagi attestando spesso Messina come prima per contagi in Sicilia dopo Catania e Palermo. Da un lato il Super Green Pass che da lunedì ridurrà gli spazi per i Novax, dall'altro i timori per la risalita dei contagi. Fatto sta che anche in tutta Italia sono tornate a vedersi le file IAB per vaccini negli ultimi sette giorni. Ne sono state somministrate a livello nazionale 2,7 milioni di cui 232 mila prime dosi, numeri che non si vedevano almeno da due mesi. Ed i booster da lunedì viaggiano al ritmo di 350-400 mila al giorno. Ma potrebbe non bastare. A presto, a presto.